Ed ecco un cambio, entra Alvaro Recoba, dovrebbe uscire Maurizio Gant, ma parla una schertezza, 1-0, adesso si fa veramente difficile perché il tempo è veramente poco, Jorker ci prova, Cervone, Coe che cerca di andare, buono 1-2, Recoba carica a sinistro e finalmente il gol del Cino! Che gol signori, un lampo improvviso dai 25 metri, entra e segna Alvaro Recoba, che cannonata, gol bellissimo, tiro potente di esterno sinistro, l'abbraccio tra Saverio e il Cino, arrivano anche Ronny, Moriero, DJ, ma vogliamo rivederlo, Cervone questa volta può solo inchinarsi a raccogliere, una cannonata potente per voi, dice Alvaro Recoba, La sua gioia, debutto con gol, vedete il tiro potente, teso, e beh, e qua non ci poteva arrivare, imprendibile, grande botta, la focca appena appena Cervone con la punta delle dita, ma nulla può, non si aspettava forse il tiro Ed è solo qua il fallo del nuovo entrato Doni, c'è Pirlo, chiama la barriera, vediamo chi si incarica, la battuta c'è, c'è ancora Recoba Probabilmente a sinistro caldo, dopo il gran gol di sinistro con il suo tiro dalla distanza, adesso ci riprova con questo calcio di punizione Cervone chiama barriera a 5, barriera per le grandi occasioni, parte la rincorsa di Recoba, il suo tiro, ed è gol il 2-1, ed è gol il 2-1, magia di Recoba Che gol signori, che ragnatela tolta, il delirio dei 60.000 del Meassa, 2-1, doppietta di Recoba 42 minuti di gioco, 2 gol del Cino Che giocata signori E abbiamo ritrovato uno specialista sui calci piazzati, e che specialista, ed eccolo qua, Shushan Boy Mi inchina ai tuoi piedi e ti lustro le scarpe, guardate dove l'ha messa E Cervone sarà rammaricato dopo tutte le farate La grande giocata, la palla che si infila